Gloria a Dio, mi fa piacere stare ancora con voi in questo giorno sicuramente il Signore avrà da consolarci, da benedirci con la sua parola, cosa che naturalmente noi desideriamo anche perché la giornata che trascorreremo la trascorreremo intorno alla parola di Dio. Ringrazio il pastore Piccolo per questa opportunità, possiamo in qualche modo condividere comunione e realizzare anche benedizioni che il Signore prepara per coloro che si accostano a Lui e noi vogliamo proprio fare questo, vogliamo accostarci a Lui, naturalmente questa è una sessione di studio, una scuola, il nostro libro di testo rimane la Bibbia che contiene tantissimi insegnamenti. Tra i tanti insegnamenti che la Bibbia contiene c'è anche un insegnamento, tanti insegnamenti riguardo alla Chiesa e nello specifico il tema di oggi riguarda proprio la missione della Chiesa. La missione della Chiesa potrebbe essere un argomento molto vasto perché naturalmente la Chiesa è impegnata in tante cose, in tante cose, essendo in qualche modo la Chiesa rappresentante di Cristo qui sulla Terra, in qualche modo, ripeto, è impegnata in tante cose, in tante cose e naturalmente ci sono cose che sono prioritarie, come ad esempio la sua missione, la missione della Chiesa. Per quanto riguarda anche la missione della Chiesa, anche lì potremmo spaziare in tante direzioni considerando alcune cose piuttosto che altre, ma io voglio centrare la vostra attenzione, attirare la vostra attenzione proprio sulla missione con la M maiuscola, la priorità assoluta, la chiamata assoluta della Chiesa, è lo scopo principale per cui la Chiesa esiste e naturalmente questo riguarda il grande mandato che ha ricevuto, il grande mandato di predicare il Vangelo. Quindi vogliamo cominciare anche leggendo un po' questi testi che qui avete nell'introduzione dello studio, avete tutti quanti le note, quindi leggeremo questi testi e poi da qui inizieremo il nostro studio, ma credo che leggiamo questi testi tratti da Matteo 28. 19.20 e poi Marco capitolo 16 dal verso 15 al verso 20, sono testi che conosciamo. In Matteo sta scritto andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Nell'Evangelio di Marco leggiamo e disse loro andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Il Signore Gesù dunque dopo aver loro parlato fu elevato in cielo e sedetti alla destra di Dio e quelli se ne andarono a predicare dappertutto e il Signore operava con loro confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Vedete, questi testi del nostro studio, diciamo oggetto del nostro studio, contengono quello che è stato chiamato il grande mandato. Contengono il grande mandato. Queste sono le ultime parole che Gesù rivolse ai suoi discepoli prima di ascendere al cielo. Il Signore doveva naturalmente ascendere al cielo, doveva ritornare nella sua casa e prima di ascendere al cielo da dei consigli, o meglio qui si tratta proprio di ordini, da dei comandamenti, dei comandamenti che naturalmente riguardavano il futuro dei discepoli, l'opera che i discepoli dovevano compiere. Naturalmente tutto questo si stava evolvendo, si stava sviluppando alla resurrezione di Gesù Cristo, dopo la resurrezione di Gesù Cristo. Quindi era Gesù appena risorto, dopo essere stato condannato, come sappiamo, ingiustamente ucciso dal suo stesso popolo con l'approvazione del potere romano che governava a quel tempo la Palestina. Era un tempo quello di grandi tensioni, grandi tensioni sociali. Gli ebrei insistevano perché si rispettasse, si onorasse la loro religione, mentre i romani, che erano il popolo dominante, volevano che si rispettasse la loro religione. Qual era a quel tempo la religione dei romani? La religione dei romani di quel tempo era il culto all'imperatore, l'imperatore che a quel tempo era Tiberio Cesare. Quindi questo era un po' il contesto storico religioso in cui Gesù rivolse il grande mandato ai discepoli. Quindi dovette apparire, considerate un po' le tensioni che vi erano, la non grande stima che godevano i seguaci di Cristo, dovette apparire sicuramente un compito molto difficile, dovette apparire sicuramente un compito molto arduo. È interessante notare che quando i discepoli videro Gesù risorto, se leggete poi nel capitolo 28 un po' più avanti prima, i loro atteggiamenti erano un po' contrastanti. La Bibbia dice che quando videro Gesù risorto alcuni l'adorarono, dubitarono, mentre altri dubitarono. Alcuni l'adorarono, mentre altri dubitarono, però Gesù non respinse coloro che dubitarono, perché il Signore sa che noi non siamo dei supereroi, sa che non siamo delle cime sempre nella fede. Gesù non respinse coloro che dubitarono, anche essi come gli altri avevano ubbidito, e cioè si trovavano lì dove Gesù aveva detto di andare, anche se poi nel momento in cui lo videro non tutti ebbero la stessa reazione, ma nello stesso tempo Gesù fa una dichiarazione che è una dichiarazione straordinaria. Egli dice ogni podestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Quindi immaginate un po' quella che è la condizione dei discepoli, una condizione un po' di stravolgimento interiore, una condizione anche in alcune di dubbio riguardo anche alla persona stessa di Gesù e anche all'essere lì in quel luogo per quello scopo che è stato loro rivolto. Quindi c'è una situazione che non è proprio limpida, chiara nei discepoli, ma ecco che Gesù va incontro a loro dichiarando una realtà, dicendo che lui ha ogni potere. Quindi nel momento in cui il Signore dichiara di avere ogni potere implicitamente sta dicendo che quello che loro manca il Signore può compensarlo. Cioè se voi non avete potere io ho ogni potere, se voi non avete capacità io ho ogni capacità, se voi non siete in grado io sono in grado, se voi pensate di non riuscire io sono nella condizione di riuscire perché io ho ogni potere. Quindi nel mandato di Gesù c'è anche la garanzia che quello che loro dovevano fare non l'avrebbero dovuto fare da soli. Gesù era la garanzia per riuscire in quello che viene loro chiesto. Qual è il potere che Gesù ha? La parola di Dio ci dice chiaramente del potere di Cristo, ne parla ampiamente. Ad esempio il Signore Gesù ha il potere, ha l'autorità ed è proprio in lui un'autorità straordinaria che gli è stata data in cielo e in terra, ha l'autorità di perdonare i peccati. Chi può perdonare i peccati se non il Signore, se non Gesù? Ed egli veduta la loro fede disse uomo i tuoi peccati ti sono perdonati. Questo ci riporta Luca capitolo 5 al verso 20. Non soltanto Gesù ha il potere, l'autorità di perdonare i peccati, ma Gesù ha l'autorità di essere il solo mediatore tra Dio e l'uomo. Solo mediatore tra Dio e l'uomo. Ed è importante che noi comprendiamo questa verità perché se il Signore è il solo mediatore tra Dio e l'uomo ci rendiamo conto che è l'unica via per poter raggiungere Dio, per poter realizzare la grazia di Dio. Gesù ha l'autorità di inviare anche lo Spirito Santo e lui lo dice chiaramente, ma il Consolatore, sta scritto in Giovanni 14, 26, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Quindi nel nome di Gesù noi riceviamo lo Spirito Santo, realizziamo ancora questa gloriosa promessa che è la promessa dello Spirito Santo. Poi dice ancora in Giovanni 15, 26, ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. Quindi Gesù ha l'autorità di inviare lo Spirito Santo. Gesù ha l'autorità anche per rivelare il Padre, per rivelare il Padre. Sto saltando anche alcune parti, altrimenti non riusciamo poi ad arrivare alla fine. Per farvi comprendere questo che l'autorità di Gesù è un'autorità vasta, è un'autorità completa, è un'autorità totale e non soltanto questo, il Signore ha anche l'autorità di dare la vita eterna, di dare la salvezza che non è una salvezza limitata, ma è una salvezza completa. Gesù ha un'autorità totale perché lui è Dio e se fosse limitato nella sua autorità, nel suo potere, naturalmente dovremmo mettere in dubbio il fatto che lui sia Dio. Ma siccome lui è Dio, ogni autorità gli è stata data. Quindi nell'affidare il grande mandato, nel dire alla Chiesa qual era la sua missione prioritaria, ecco che il Signore sta dicendo guardate che io ho la forza perché voi facciate quello che vi sto chiedendo di fare. E questo è importante che noi lo comprendiamo perché vedete, il Signore non ci chiede mai di fare qualcosa che noi non possiamo fare o che noi non siamo in grado di fare. Il Signore ci chiede di fare qualcosa e nello stesso tempo ci dà le capacità per farlo. Siamo d'accordo su questo? Egli ci dà le capacità per farlo. Non è come un mio datore di lavoro di un po' di tempo fa che mi diceva quando ero giovane, guarda c'è da fare questo. Io dicevo ma cosa c'è da fare questo? Con cosa si fa questo? Dove sono gli attrezzi? La sua parola era arrangiati. Il Signore non farà mai così. Se il Signore ci chiede qualcosa, mette a nostra disposizione tutto quello che occorre per poter portare a compimento quello che Lui ci affida. Quindi dopo aver dichiarato la sua autorità, ecco che Gesù rivolge il grande mandato. Non lo fa prima. Prima dice loro guardate che io ho ogni autorità. Vero è che voi state vivendo questo momento un po' particolare. Vero è che le vostre certezze sono venute meno perché con la crocifissione di Gesù le certezze che fino a quel momento avevano in qualche modo avuto nel cuore sono venute meno. Ma Gesù dice io ci sono ancora, io sono risorto anche se alcuni dice la parola di Dio quando lo videro dubitarono. Ma il Signore stava tessendo le loro certezze ancora una volta in modo tale che loro potessero partire in questa nuova missione con una chiara cognizione di causa, con delle buone basi per poter riuscire. Perché quando noi partiamo per fare qualcosa già dubitando della riuscita, già siamo sconfitti in partenza. Quindi Gesù introduce il grande mandato dicendo io ho ogni potere. Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Quindi dopo aver detto questo dice andate dunque e fate discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro a osservare tutte quante le cose che io vi ho comandate. Quindi vediamo che in qualche modo Gesù sta chiedendo ai suoi discepoli di continuare un lavoro che era stato già iniziato. Non è che dovevano inventarsi nulla, non dovevano assolutamente inventarsi nulla, dovevano continuare un lavoro che lui stesso aveva iniziato. Quindi questo lavoro che Gesù aveva iniziato, cioè un lavoro di salvezza dell'umanità, ecco che doveva essere portato avanti. Perché il suo ministero di salvezza, la sua opera di salvezza non comprendeva soltanto gli abitanti della Palestina in quei tre anni di ministero che il Signore svolse sulla terra, ma comprendeva tutti i popoli, tutte le genti future che sarebbero venute. Quindi vediamo che lui andava in cielo, la Chiesa rimaneva sulla terra, quindi in poche parole il Signore sta dicendo continuate quello che io ho iniziato. Quindi il lavoro deve essere continuato dai suoi seguaci. Il motivo per cui tu esisti, il motivo per cui la Chiesa esiste, è proprio questo. È proprio questo. Quello di continuare il lavoro che il Signore ha iniziato. Il motivo per cui noi siamo qui sulla terra è proprio quello di continuare l'opera di salvezza che il Signore ha iniziato. Quindi siamo chiamati ad adempiere il grande mandato. Tra i vari insegnamenti che diamo nelle nostre Chiese non può mancare l'insegnamento riguardante la missione lasciateci da Gesù. E questo riguarda anche i nostri bambini più piccoli. La Bibbia ci dice di insegnare ai ragazzi la condotta che devono tenere, perché anche quando sono grandi se ne allontaneranno. Ed è importante anche ai nostri figli ricordare loro che siamo chiamati, invitati, comandati di parlare di Gesù. Ed è bello quando questo cominciano a farlo anche nella loro scuola, nella loro classe. I nostri bambini sono innocenti e molte volte lo fanno più di quanto lo facciamo noi. Spesso sono nonno o due nipotini, spesso loro vengono a casa e raccontano un po' quello che è accaduto con i loro compagni. A volte si trovano a affrontare delle situazioni e sono loro che parlano di Gesù. L'altro giorno mi diceva mio nipote che un suo compagno era dispiaciuto, piangeva perché la sorellina l'aveva lasciata a casa e stava male. E mio nipote gli fa e dice vuoi che preghiamo il Signore? Vuoi che preghiamo il Signore? Sta facendo la quarta elementare adesso. E si sono messi a pregare il Signore per la sorellina che stava male, perché Gesù è potente, Gesù la può guarire. In poche parole questo siamo noi chiamati a fare, cioè annunciare la potenza di Dio. Quindi non possiamo tralasciare questo insegnamento sia per quanto riguarda i più piccoli sia per quanto riguarda gli adulti, perché Gesù ha affidato l'incarico ai salvati di evangelizzare il mondo, di fare discepoli. Il Signore avrebbe potuto fare diversamente, avrebbe potuto incaricare degli angeli, ma il Signore ha stabilito che dei salvati potessero essere strumenti, fossero strumenti di salvezza per i perduti. Ma dobbiamo anche dire che purtroppo invece di predicare il Vangelo fino agli estremi confini della terra, come il Signore ha comandato, molte chiese moderne non riescono a predicare il Vangelo neanche fino alla fine della strada dove il loro locale è ubicato. Molte chiese hanno perso di vista questa priorità, hanno perso di vista il grande mandato, sono impegnati in tante attività, sono impegnate in tanti modi, ma hanno perso di vista quello che è la missione prioritaria della Chiesa. Leggevo qualche tempo fa alcune recenti statistiche e dobbiamo considerare che queste statistiche sono veramente agghiaccianti, fanno riflettere e in qualche modo fotografano quella che è una grande realtà. Sentite un po' queste statistiche cosa dicono. Il 95% dei credenti non ha mai vinto un'anima a Cristo. Io non so se voi potete fare questo tipo di statistiche anche nel vostro ambiente, nella vostra Chiesa, ma se ci riflettete, credo che queste statistiche corrispondano molto, ma molto al vero. Il 95% non ha mai vinto un'anima a Cristo, l'80% dei credenti non vive una vita cristiana coerente. L'80% dei credenti non vive una vita cristiana coerente. Il 70% dei credenti non è interessata al grande mandato, non lo adempie, non prega e non dà affinché altri possano adempierlo. E soltanto il 2% è impegnato sistematicamente in un ministerio di evangelizzazione. Cioè solo il 2% dei credenti esce la mattina avendo tra i suoi scopi, i suoi obiettivi, quello di parlare a qualcuno del Signore. Altri magari lo fanno, ma lo fanno casualmente se proprio capita. ma soltanto il 2%, secondo questa statistica, è impegnata sistematicamente come scopo di vita, come obiettivo della giornata in un'opera di evangelizzazione. Naturalmente la statistica del pollo. Siamo in due, io mangio un pollo, mediamente ne abbiamo mangiato metà testa. Naturalmente non è che tutte le statistiche sono applicabili al 100%, però se voi ci riflettete, questa è un po' la considerazione, la statistica in senso generale che è stata fatta. Voi potete anche pensarci, grazie a Dio, qui è un gruppo scelto diciamo di credenti. Però già voi potete un pochino chiedervi, verificare quanti di voi hanno portato almeno un'anima a Cristo. Quanti di quelli che conoscete nel vostro ambito, nel vostro ambiente hanno portato almeno un'anima a Cristo. Io credo che lo scopo, l'obiettivo di ciascuno di noi deve essere proprio quello di entrare in quella che è la missione della Chiesa, la missione che il Signore ci chiama a compiere, a sviluppare, che è appunto la predicazione, l'evangelizzazione, il grande mandato. Questo è lo scopo principale che dobbiamo avere perché queste statistiche rivelano in qualche modo il vero stato della Chiesa moderna. Siamo soddisfatti certamente di essere salvati? Siamo soddisfatti di essere salvati? Sì. Grazie a Dio perché siamo salvati, ma dobbiamo pur dire che non siamo sufficientemente motivati per fare la nostra parte affinché altri conoscano Cristo come Signore e Salvatore. Sembra che il fatto che noi siamo salvati, in senso generale sto parlando, naturalmente qui ho delle eccezioni, il fatto che noi siamo salvati ci basta. Gli altri problema loro. Ma non può essere così, non deve essere così, perché la Chiesa del Signore ha una missione, una missione da compiere. Quando parliamo di Chiesa del Signore non stiamo parlando degli altri, quando parliamo di Chiesa del Signore stiamo parlando di noi, perché noi siamo la Chiesa del Signore, noi siamo membri della Chiesa di Dio, quindi è importante che entriamo un po' in quello che è il cuore di Dio. Molti sono giunti a credere che la loro responsabilità consista unicamente nell'andare in Chiesa una volta o due volte alla settimana. Alcuni quando vanno due volte alla settimana in Chiesa già si sentono degli eroi, pensando che l'essere cristiani significa soltanto questo. Certo che bisogna andare in Chiesa, non una volta o due volte, ma tutte le volte che si ha l'occasione, la possibilità si può andare, bisogna andare in Chiesa. Alcuni pensano che essere cristiani significa anche pregare di tanto in tanto, leggere qualche volta la Bibbia, vivere una vita un po' più pulita degli incalliti peccatori, già ci si distingue, già questo dovrebbe essere sufficiente, mentre non è proprio così secondo il concetto di Dio. Molte Chiese, molti cristiani, purtroppo continuano a dimorare nel profondo sonno dell'autocompiacimento. Migliaia di persone continuano purtroppo ad andare all'inferno perché chi dovrebbe parlare sta zitto. e noi abbiamo la possibilità di parlare, abbiamo il mandato di parlare, abbiamo l'autorità di parlare. Io credo che tutti quanti noi siamo grati a chi dieci, vent'anni fa, trent'anni fa, cinque anni fa, un anno fa ha preso il coraggio e ci ha detto che Gesù era morto per noi, stava adempiando la missione della Chiesa, quello che l'ha fatto. E noi siamo salvati perché quella parola è giunta a noi, quella parola ha toccato il nostro cuore, lo Spirito Santo l'ha resa fertile in modo tale che germogliasse e che producesse un meraviglioso frutto di salvezza. Quindi oggi più che mai è urgente, cari fratelli e sorelle, rispondere al grande mandato, adempiere la missione della Chiesa perché il momento del ritorno di Cristo è vicino, è ancora più vicino di qualche anno fa e noi vogliamo essere impegnati a far sì che il numero degli eletti si compia. Quindi siamo chiamati ad edempiere il grande mandato, a compiere la missione della Chiesa. Allora adesso entriamo proprio nel centro del nostro studio, non so, il pastore Picco è andato via, l'intervallo a che ora l'avete? Alle 11 c'è l'intervallo, quindi io di tanto in tanto vi darò anche la possibilità di fare delle domande. Non è questo un argomento, penso, di grandi dubbi o di grandi problemi, è un argomento questo molto lineare, non è un rompicapo teologico, anche se alcune cose possono emergere, però di tanto in tanto vi darò la possibilità di intervenire, di fare qualche domanda e quindi anche di interagire insieme, evitare che sia solo un monologo. Quindi quello che ho fatto finora è l'introduzione, se c'è qualcuno che vuole fare una domanda può farla e così daremo la possibilità anche di meglio esprimere i concetti che si vogliono dare. Qualcuno che desidera fare una domanda? Alzi la mano, c'è un microfono a disposizione, così tutto quello che viene detto viene registrato e viene assumente la responsabilità. Volevo chiederti, quando hai parlato del 95%, l'80%, il 70%, il 70% non sono riuscita a prendere nota, cosa avevi detto? Allora, il 70% di cui parlavamo, dei credenti, non è interessato al grande mandato, non è interessato, non lo adempie, non prega e non dà affinché gli altri possano ademperlo. Qualcuno dice, ed è un'immagine che a volte gira nei congressi missionari, che le missioni, quindi l'adempimento del grande mandato in senso generale, è fatto dalle mani che danno, dai piedi che vanno e dalle ginocchia che pregano. Quindi vi sono alcuni che magari non sono nella condizione di poter andare in modo sistematico, però nello stesso tempo adempiono lo stesso, in grande mandato, partecipano alla missione della Chiesa, pregando o dando, o pregando e dando. La mia domanda appunto non era limitata a questa. Per smuovere la fede di questi credenti, perché comunque frequentano la comunità, forse sono più attivi che degli altri nelle partecipazioni dei servizi, non solo una volta o due, ma magari tutti i servizi che ci sono, però fanno parte di questa categoria di persone. Secondo te e la tua esperienza nel campo spirituale, cosa si potrebbe fare a smuovere questi cuori, queste persone? Beh, una cosa che si dovrebbe fare è quella che noi stiamo facendo qui, insegnare che questa è la volontà di Dio, che questa è la priorità di Dio, e poi lasciare allo Spirito Santo il lavoro di convinzione nei cuori. È normale che sia così. Però bisogna naturalmente parlarne. Purtroppo, ripeto, io parlo con molta libertà perché non conosco la realtà della vostra Chiesa, ma in senso generale quello che accade è che molte Chiese purtroppo non hanno nessun programma di evangelizzazione e non spingono, non invitano i credenti ad essere quei testimoni solitari che anche il Signore ci chiama ad essere. Perché non è che noi dobbiamo sviluppare soltanto un programma di evangelizzazione come Chiesa, cosa che i responsabili di una Chiesa sono tenuti a fare perché hanno una responsabilità generale della comunità, ma come singoli credenti, come parte del corpo di Cristo, come membri della Chiesa del Signore, noi siamo chiamati ad adempiere il grande mandato nel nostro piccolo, perché predicare non significa naturalmente stare dietro a un pulpito soltanto, quello è predicare, ma non è solo quello predicare. Il predicare di cui ci parla la parola di Dio è di raccontare tutte le cose che noi abbiamo realizzato e che ci conducono alla salvezza e che possono condurre altri alla salvezza. Cioè prenderlo come scopo di vita, perché questo è lo scopo di vita, il motivo per cui tu sei qui e non sei in cielo è perché tu devi essere un testimone, perché tu sei chiamato ad essere un testimone. Se non era questo lo scopo di Dio, ti salvava e ti portava subito in cielo. E quindi eri già nell'habitat naturale nostro che naturalmente avremo quando il Signore ci chiamerà. Però questo è lo scopo principale. Lo scopo principale della Chiesa non è cantare per quanto è bello cantare. Lo scopo principale della Chiesa non è intrattenerci in serate conviviali, per quanto è anche cosa gradevole e buona. Lo scopo principale della Chiesa non è quello di ingrassare spiritualmente e basta. Lo scopo principale della Chiesa, per cui la Chiesa esiste, è quello di essere araldo del Vangelo, essere annunciatrice del Vangelo. Noi dobbiamo annunciare l'Evangelo della Grazia perché è piaciuto a Dio, che piaccia a noi o no, di salvare i credenti per mezzo della pazzia, della predicazione. Cioè non c'è un sostituto alla predicazione per la salvezza dei perduti. E come dice eloquentemente l'Apostolo Paolo nel capitolo 10, ma come potranno credere se non c'è chi parla, se non c'è chi testimona, se non c'è chi annunci. Cioè noi a volte vogliamo che la gente si converta, preghiamo che la gente si converta, ma non parliamo a loro del Signore. Cioè vedete, nell'opera di Dio c'è una parte che spetta a noi e una parte che spetta a Dio. Dio non farà mai quello che spetta a noi, noi non potremo mai fare quello che spetta a Dio. Quindi in questa sorta di collaborazione dobbiamo cercare di interagire, di collaborare. Quindi il Signore dice tu annunci il Vangelo, poi lo Spirito Santo compungerà i cuori. Ma se tu non annunci il Vangelo, dici pregate per mio marito che si converta, ma gli hai parlato del Signore? Pregate per mio figlio che si converta, ma gli hai parlato del Signore? Pregate per la suocera, le suocere si devono pure convertire, ma gli hai parlato del Signore? Cioè è importante che, capite, comprendiamo il meccanismo, permettetemi questo termine, del progetto di salvezza di Dio. Non c'è salvezza senza annuncio del Vangelo. Non abbiamo via d'uscita. Non abbiamo via d'uscita. La predicazione è il mezzo per la salvezza. È piaciuto a Dio di salvare per mezzo della pazzia della predicazione. Dunque, io volevo dire questo di me. Io non mi sento tanto portato ad andare in giro per strada e parlare del Signore e dare il volantino, per quanto mi sento portato a parlare al singolo, al fratello, o nella mia stessa famiglia, o ai miei stessi clienti, agli amici, al bar. Ecco, mi sento portato a questo. Andare in giro per strada e dare il volantino e parlare della salvezza non mi sento tanto portato, ma per quanto invito la gente a sentire l'amore di Cristo, ad aprire il loro cuore a Cristo, all'esistenza di Cristo. No, no, ma questo è naturalmente quello che noi dobbiamo fare. Per quanto riguarda l'annuncio del Vangelo non c'è un solo metodo. Naturalmente ci sono i progetti ecclesiali della Chiesa, che sono i gruppi evangelistici, che sono le campagne di evangelizzazione, che sono i culti all'aperto, che sono le riunioni straordinarie. Quello è il lavoro, il programma della Chiesa, che rientra anche nell'adempimento del grande mandato. Rientra anche nell'adempimento della missione proprio generale della Chiesa, ed è bene che si faccia. Ma poi ognuno di noi ha una responsabilità individuale. Secondo le occasioni che ci vengono offerte, dobbiamo approfittare a tempo e fuori tempo di annunciare la salvezza, di parlare di Gesù. Naturalmente bisogna farlo contatto. Bisogna prendere contatto con tatto. Ricordate questo besticcio di parole, così vi ricordate meglio. Perché a volte se non si ha tatto nel contatto, si rischia magari di vanificare quello che è l'annuncio del Vangelo. Quindi ricordate, cercate l'occasione, l'opportunità, il momento giusto. Vedrete che ce ne saranno tantissimi. Tanti a volte ci danno proprio l'imbeccata. Come fai a non parlare del Signore? Quando si parla di determinate situazioni, di determinate circostanze, di quello che succede, di quello che è accaduto, delle vicissitudini, delle crisi, tutti si lamentano. Quanto è bello poter dire, ma grazie a Dio, io sono contento dello stato in cui mi trovo, perché so che ho un padre in cielo. E allora si lamentano e tu gli parli del Signore. Naturalmente bisogna approfittare delle occasioni. C'era un fratello che io ho conosciuto, tra l'altro, e credo che conosca anche il pastore Piccolo, che adesso non è qui con noi, che faceva questo fratello il barbiere. Non so se avete sentito questa storia. E a un certo punto, la domenica, il pastore aveva predicato insistentemente sulla necessità di testimoniare di Cristo, sul comando, sul dovere di testimoniare di Cristo. E questo fratello si sentiva mancante. Si sentiva mancante e allora cominciò a riflettere e dice, no, io devo testimoniare di Cristo. Sono un diglio di Dio, sono un discepolo del Signore, non posso non testimoniare di Cristo, perché è un dovere della Chiesa, è un comando che Gesù diede. Lo diede prima di ascendere al cielo. E allora cominciò a riflettere, da quel culto lì non ebbe più pace, perché lui doveva testimoniare di Cristo. Perché sapete, i barbieri, quando voi andate a farvi i capelli, vi parlano di tutto, del calcio, come va la vita, la crisi, l'economia, il governo, il governo, quante ne combina. Tanti argomenti, dice, ma non riesco mai ad entrare. E penso tutto quel giorno di domenica, io devo parlare di Cristo, adesso come vado al lavoro. Il lunedì era chiuso, tutto il giorno questo pensiero martellante. Il martedì mattina, no, adesso, il primo cliente che arriva, gli parlo di Cristo. Primo cliente, il calcio, le partite, niente da fare. Secondo cliente, il governo, la crisi economica, niente da fare. Stava per chiudere, era l'ultimo cliente, poi doveva chiudere per il pranzo. Un certo punto, no, dice, a questo non posso non parlargli di Cristo. E allora gli stava facendo la barba, era arrivato qui col rasoio e gli chiede, è pronto ad incontrare il suo Dio? Questo qui lo spinge, con la schiuma nella faccia, scappa via e gli fa, dice, ma lei è matto? Cioè, c'era il sentimento, ma non aveva avuto tatto nel farlo. Il sentimento c'era, la domanda era anche legittima. Poteva condurre e riflettere, ma non era quello il, capite? Quindi è importante che noi lo facciamo, nel momento giusto, lo facciamo con tatto, in modo tale che la semina che attuiamo possa portare un buon frutto alla gloria di Dio. Questo fratello poi diventò un servitore del Signore. Diventò un servitore del Signore e per tanti anni ha servito il Signore. Però, per dirvi, questo era stato all'inizio il suo desiderio e la sua esperienza, che poi se ne parlava di tanto in tanto. Quindi è un nostro preciso dovere, anzi io direi è un nostro preciso diritto di annunciare il Vangelo ai perduti, perché un giorno, se noi non lo facciamo, ci verrà chiesto conto di perché non l'abbiamo fatto. E poi un'esperienza che io ho fatto, ma credo che riguarda anche la vostra esperienza, c'è molta più gente di quanto noi pensiamo che sta aspettando che qualcuno gli parli del Signore. Molta più gente di quanto noi pensiamo. Ma a volte, quando qualcuno si converte, magari è stato fianco a fianco con un collega credente per tanti anni, poi prende il coraggio questo collega credente di annunciargli il Vangelo, e questo del cuore al Signore è la prima cosa che dice, ma perché non mi parlavi prima? È da tanto tempo che stavo aspettando che qualcuno mi annunciasse il Vangelo. Io credo e spero che noi vogliamo essere quei testimoni che il Signore desidera. Quindi parleremo di questo mandato, di questo mandato che è la missione della Chiesa. Prima di tutto è bene dire che è un mandato divino. È un mandato divino. Abbiamo letto qui la parola di Dio. Gesù disse andate e predicate. Quindi il comando di Gesù è andate. È un comando che ci arriva da parte del nostro Maestro. Quando parliamo di andare, questa parola porta alla nostra mente l'azione. Non possiamo andare stando seduti. Andare significa movimento, andare significa agire, andare significa darsi da fare, fare qualcosa, prendere l'iniziativa. Non possiamo andare stando seduti perché l'adempimento di questo comando, se davvero desideriamo adempierlo, deve coinvolgerci, deve coinvolgerci personalmente, deve essere qualcosa che deve impegnarci perché l'andare non si riferisce soltanto a un movimento, ma si riferisce a un'azione completa che coinvolge l'intero essere nostro. Quindi questo mandato divino che noi abbiamo ricevuto non può limitarsi soltanto a una parte del nostro essere o del nostro modo di fare, ma deve coinvolgerci interamente. Naturalmente questo mandato, prima di tutto, deve coinvolgere il nostro stile di vita. Se noi siamo dei testimoni, o meglio, non possiamo limitarci a fare i testimoni. Noi dobbiamo essere dei testimoni. Alcuni provano a fare i testimoni, ma a volte succede che se lo stile di vita non è consono a un testimone del Signore può accadere quello che disse Gesù, che qualcuno ti dice, medico, cura te stesso. Quindi noi dobbiamo essere dei testimoni. Quindi il nostro stile di vita deve essere corrispondente al messaggio che noi annunciamo. Vedete, la Bibbia dice che noi siamo il sale della terra, siamo la luce del mondo. Come sale della terra, la nostra vita dovrebbe stimolare la sete, la sete di Dio nella gente. Il sale stimola la sete. Quando si mangia salato poi non si smette mai di bere. Quindi se noi siamo sale, dovremmo stimolare la sete di Dio nella gente. E' bello quando la gente, magari osservando il nostro stile di vita, il nostro modo di essere, magari viene vicino e ti chiede, ma c'è qualcosa di speciale nella tua vita? C'è qualcosa di particolare nella tua vita? Vogliono sapere, vogliono conoscere, hanno sete. Quindi la nostra gioia, la nostra pace, la nostra diversità dal mondo che vive immerso nel peccato dovrebbe incuriosire le persone fino al punto da voler conoscere cosa c'è in noi di speciale. Quindi è importante che se Gesù è al centro della nostra vita, le persone sicuramente se ne accorgeranno. E ci chiederanno di conoscere Gesù, di conoscere il Signore. Quindi è importante che questo mandato in qualche modo coinvolga, prima di tutto, il nostro stile di vita, sia il nostro stile di vita consono al mandato che noi abbiamo ricevuto. E' impossibile che la gente non si accorga che noi siamo figli di Dio, se tali siamo. E' impossibile che non se ne accorgano. Probabilmente non potranno decifrare subito esattamente la situazione, ma si accorgeranno che siamo un po' diversi da loro. Si accorgeranno che il nostro modo di fare è un modo di fare di una certa coerenza. Si accorgeranno che il nostro modo di parlare è un certo modo di parlare. Si accorgeranno che il nostro modo di reagire è diverso da quello che attua il mondo, quelli che sono privi della grazia di Dio. Si accorgeranno anche che la serenità, la pace che noi abbiamo in determinate situazioni non è razionale. C'è qualcosa di particolare, di diverso. Quindi è importante che il nostro stile di vita in qualche modo possa chiaramente testimoniare, adempiere già da sé il mandato che il Signore ci ha affidato. Naturalmente il grande mandato, questo mandato divino, deve anche coinvolgere l'uso delle nostre labbra, l'uso delle nostre parole. Perché dopo aver testimoniato con lo stile di vita di tutti i giorni, dobbiamo anche annunciare il Vangelo, far conoscere la nostra fede, raccontare a un mondo perduto ciò che Gesù ha fatto per noi e cosa ancora è in grado di fare. Vedete, l'unica cosa non esclude l'altra. Alcuni dicono, ah no, io predico con le mie azioni. Volendo stare a dire, non è necessario che io parli. Non funziona così. Tu devi predicare certamente con le tue azioni, ma poi devi anche annunciare con le tue parole. Con le tue parole. Altri invece sono nella condizione opposta. Io parlo del Signore pensando che non sia necessario un comportamento coerente. un comportamento consono. Ma noi dobbiamo essere quello che predichiamo. Non possiamo limitarci a fare come magari fa una certa frange religiosa che dice fate quello che vi dico, avete sentito anche qui questa? Ma non fate quello che faccio. Non funziona così. Noi dobbiamo essere quello che diciamo, dobbiamo annunciare la parola di Dio, confermando con il nostro stile di vita, con il nostro modo di essere, che siamo figli di Dio. Quindi il termine predicare significa annunciare. E qui nel nostro testo, nel nostro testo di Marco, appare come un imperativo, come un comando. Quindi non sta dicendo il Signore, se volete andate e predicate. No, qui ha un comando, è un imperativo. Andate e predicate l'Evancero ad ogni creatura. Quindi predicare per un credente non è facoltativo, ma è un ordine che giunge direttamente da Gesù Cristo. Quindi se il Signore ci avesse salvato, come dicevo prima, soltanto per liberarci dall'inferno, ci avrebbe portato nel cielo immediatamente. Se il Signore ci avesse salvato soltanto per lodarlo e adorarlo, cosa che dobbiamo fare, anche in questo caso ci avrebbe portato direttamente in gloria. Egli ci ha salvato per darci modo di raccontare la nostra storia e ci lascia ancora sulla terra perché annunciamo le meraviglie del Suo amore. Questo è il motivo per cui esisti. Questo è il motivo per cui esisti. Questo è il motivo per cui sei qui sulla terra. Per annunciare di Cristo Gesù, per parlare di Cristo Gesù, per testimoniare sia col tuo stile di vita e poi anche con le tue parole. È chiaro? Qualche domanda? Questa è la missione della Chiesa. È la nostra missione ed è una missione divina. È un mandato divino. Se c'è qualche domanda, fate un cenno. Diamo possibilità. Altrimenti vedo che sono le 11 e facciamo l'intervallo previsto. C'è qualche domanda? No. Perfetto. Intervalliamo? E poi andiamo avanti col secondo punto. Grazie. 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 Grazie.